E finalmente arrivati a Fairbanks dopo 666 km e o 414 miglia nella Dalton Highway, la traversata in solitaria dell'Alaska in bicicletta. Volevo ringraziare la bicicletta che mi ha permesso la mia daily in pro della Cube, che mi ha permesso di mai bucare, ma soprattutto di fare questa traversata lenta su un terreno assolutamente, magari non troppo congeniale per questo tipo di bicicletta, la mia home, la mia casa, la mia tenda, le attrezzature, gli zaini, il signor Giovanni della Foto e Bottignolo che mi ha contribuito in qualche maniera a questa idea, ma soprattutto le persone, la Morena, Officine Micro, Paidusi, la Gigliola e la Cora che hanno permesso di raccontare tutto questo. Per il resto, che Dio salve la regina e anche il re, Giulia.